Questa è una cosa che secondo me ha molti di voi interesse Se volete capire come migliorare su Fortnite Imparare What the fuck Il trappadino va a tirare con il mouse o scorre benissimo E i trappadini in tessuto fanno scorrere il mouse normalmente brother Oh, oh Fuck Grazie Devi morire cazzo Non lo so Qualche altro colpo No Ah Ok Stiamo guardando in 75 versioni In centro piazza sul maxi schermo Da fuck E che piazza è What the hell Questo è per i ragazzi nella piazza Allora Ragazzi mi avete casato a merda cazzo Ah giusto non si può fare con sto muro Ci prova Andrix a leggere tutti Cioè più che altro voglio parlare anche del gioco Comunque ragazzi Questa è una cosa che secondo me ha moltissimo interesse Se volete capire come migliorare su Fortnite Parare What the fuck This is a really fat big host man Are you fucking kidding me man This shit is fat as hell Thanks man appreciate that Oh my god Appreciate it Turner What the fuck Okay I appreciate it man I'm quite shy guys Too many people now I'm not used to this Fuck say Oh no way Oh no way Sup dude Sup dude Sup dude Sup dude Sup dude Sup dude Thanks man really appreciate that I was not expecting something like this Sup dude 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 I really appreciate that So you come into the 24th to play the event Let's see if we can find the other guys here Sup dude 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 Sì not quite as planned not quite as planned oh fuck my life fuck this guy so i have to shine now tarner so i have to play as much aggressive as possible just because he hosted me i have no time to chill i have no time to wait for people that's your fault man i have no time to come on nice nice i like it let's see let's see what we can do whoo i'm coming don't worry for me brother whoo 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 easy boy